12 luglio terza stagione si si no lui ha iniziato tre anni fa ha iniziato con diciamo con veramente lui ci mette l'animo come ben sai Antonio è uno che mette passione sta cercando di fare qualcosa di importante da qualcosa di importante con l'AIC penso che Pasquale ne sa qualcosa il mister Matarese e niente stiamo al terzo anno l'anno scorso lui comunque ha fatto tantissimi iscritti diciamo dico iscritti ma lui veramente prende una miseria a settimana per fare allenare noi giocatori c'erano più di 60 giocatori 60-70 giocatori tantissimi amichevoli quest'anno si è organizzato ancora di più sarà sicuramente un'altra un'altra iniziativa importante per lui e questo gli fa onore perché lui si presta veramente a tutti sta sempre a disposizione